Grazie Poi in realtà quando scarica le batterie Poi in realtà quando scarica le batterie Poi riprendi un attimino e risolvi Però è un compromesso Per me devo farlo anche Bene dai No no io non sa che Qui mi so esco e poi non devo fare Per me che No 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 è il rischio Difficile Spegni Spegni Il rischio Quando è a gas No no Io credo Io ho sempre rimasto in questo Prova con l'antenna dentro A un certo punto non capivo più se non rispondeva Alla mia attima Ho tirato fuori l'antenna E poi è venuto giù Non ho capito esattamente se sia stato quello Qualcosa Dov'è ancora? Occhio al sole Guarda che è gas Sì Faccio anche un giretto così Poi andiamo Oggi facciamo una droga Io ho in realtà For Sonic È un po' sbilanciato probabilmente Perché manca il kit FPI qua Sbilanciato di lato? No, secondo me non è particolarmente C'è il tratto bene Allora niente qui si da gas Aspetta aspetta che Tutto di... Ok Aspetta aspetta che la... Aspetta perché io non so dove metterlo Mettiti vicino a lui così E vedi anche... Io non l'avevo mica visto che... Posso accendere? No, anche meno, anche meno Aspetta 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.